buonasera tutti quanti questa sera fa abbastanza caldo 16 gradi questa pomeriggio di 30 gradi c'erano oggi allora è mezzanotte 18 minuti oggi è sabato 29 ma non oggi 29 aprile 2023 io penso già maggio penso e niente ci sentiamo domani vi auguro buona notte tutti quanti e speriamo che arrivi il caldo ciao ciao baci baci